per tutte le ragazze sono io l'index per questa nuova parte del display di donk 64 è posizionata scusatemi se ho cominciato in una maniera deficiente ma anche così vabbè puoi sciammo vediamo dobbiamo entrare appunto la tua volta eravamo il nuovo mondo il castello lugubre spaventoso in questa zona qua che sono venuto adesso eravamo già venuti con DT Kong e Donkey Kong adesso dobbiamo venire con Chang'Kong e dobbiamo fare una cosa assurda allora vai così banale, bene le prime banali di Chang'Kong le seconde banali di Chang'Kong le seconde, va bene un qualche Chang'Kong, vai vai così monete di Chang'Kong che è tutto di Chang'Kong che coglione scusate un minigioco, speriamo che non sia una merdata fangku o ancora questo l'abbiamo fatto nell'ultima parte fuori da questo mondo nella fangku e dai speso ok 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 vai, si ok vai questo non è difficilissimo un pochino forse però non è esagerato come ho fatto che fu totale cazzo uno schifoso totale essere tra l'altro dobbiamo uscire adesso da questa zona qua un attimo dopo ci rientriamo subito sì questo mondo mi divertirà molto quindi servizio sarà molto deficiente mi scusate guardiamo con il tiny con perché so che c'è da arrivare su col tiny ma non fare così cosa fa io volevo fare un salto semplice mi fa con una rincorsa deficiente non lo so se è demente o rompi coglioni no coglioni rompi coglioni no ma oh vabbè to zitto per non dire cazzate ecco la parte che l'ho fatta di cazzate nella parte prima tra il cantare e fare il demente mi scuso volare così volare così volare o ma non cadere giù però fa fa culo sapere di epic fail glitch assurdo guardate il glitch grafico non ho qua lo rifaccio per vedere yeah glitch assurdo dentro muro ok 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 finalmente sono tre qua e prendiamo indovinate cosa si no ma che porca troia non volevo questo non volevo questo exit no questa si no fa sbagliare superdover simian un altro ancora più super di slam per il tuo tempo di intagini euro non è vero potrai usare cioè il tuo schianto sarà ancora molto più potenziale di quelli l'ho già potenziato nel mondo della foresta e questa volta ancora di più nella foresta dei funghi l'abbiamo potenziato per la prima volta e da normale l'abbiamo fatto diventare super adesso addirittura ultra che potremo schiacciare i pulsanti rossi nel primo potevamo schiacciare i pulsanti verdi col secondo quelli quelli blu e adesso anche quelli rossi e dai siamo qua wow che schifo siamo nella spazzatura ci sono delle mosche schifose e le devo uccidere scusate ma questa cazzella non so a tre po' figo dove sei? non la vedo sta mosca cazzo eccola uccisa non devo che ci sono altre si dove sei? fatti vedere cazzo ok ce l'ho fatta finalmente perché non la comunque questo allora questa situazione è una spazzatura ricorda che non è una spazzatura non è una spazzatura ok ok ma lì che è che diventerà le altre che rischio se non avevo potere aggrapparci qua un po' addonchicon ok ok quante belle banane viola da prendere tutte quante ok sono un ubriaco che non capisco più una minchia andiamo con me andiamo con me andiamo con me andiamo con me oh zio ma non è qua ma appena sotto ecco ma porca troia cazzo che che dolore dolore che mi son fatto mi sono spiaccicato al suolo e quante belle banane per me anche erano le prime banane eh si fra tante ne prenderemo ancora guardate quante cies ma un po di monete ohso oh che paura perché non me lo becca uccasante del cazzo no problem so io vo open this sei aperto un gola infamato devo fare perchè ho fatto questo? ho sbagliato scusate tutti oh mamma idiota sto facendo un casino totale questo momento di casino sto usando tutto quello che non devo usare ops ecco perchè un glitch forza dai vai a far culo ce la faccio dai che ce la faccio ma che cazzo ce l'ho fatta di culo di botta di culo l'ho 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 che cazzo ne sapevo che vediamo anche qua penso che c'è solo da sinistra preso l'ho 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 cosa salta di la ma no ritornata delle monete comunque ripeto saluto a tutti quelli che mi hanno comprato nell'explay finora e penso anche non finora perché tanto ormai è quasi finito quindi tutti quelli che mi hanno comprato nell'explay perché non penso che ci sarà qualcuno di nuovo dato che è quasi finito non lo so magari comunque saluto vanis deccio viridi il vendicatore francesco e mattia tutti questi e poi anche come un banana se non c'è niente e poi anche gabriele fabio che mi ha aiutato anche lui nell'ultimo mondo dell'ultimo mondo appunto quello di l'ultimo mondo che ho fatto che ero delle grotte scusate silenzio assoluto no sto pensando una cosa ok è già tutto qua potevo prendere il coso ma per non sparcare i cristalli non volevo prendere si lo so lo so come ho pensato il bariloto per ritornare più in fretta ma però dopo spero cristalli che mi servono un'altra cosa un'altra cosa tanto ragazzi adesso tocca a tiny kong aspettate però come vuole perché tutte ste banane qua cosiddette poi cos'è che c'è qua ah no è di tiny ok ok io ho lanky yes prendiamo wow snipper snipper è un potenziamento che ci fa avere lo zoom diciamo ok quando spariremo potremmo avere lo zoom yeah troppo troppo cool porca troia in una maniera assurda satanato come non mai in un mondo del genere yeah ok ok sono pazzo sono un demente c'è gente che non mi ha mai visto così ecco ho sentito piuttosto così però ecco vabbè per fare un po' di gli ozzi e ci vuole un tanto però no vabbè dai ma cazzo l'ho già tutta no mi sono accorto proprio nel momento in cui ho fatto un salto che c'era questa schifosa melma salamoia o cos'è poi e sono caduto dentro penso che sia salamoia si è vero non c'è niente da fare semplicemente yeah visuale di merda vabbè oh mamma questo bastardo è una cosa bastarda questa ahhh vabbè porca di quella come si fa a sbagliare già l'inizio non è possibile e ok si questo mondo è una cosa assurda questo mondo quante volte avrò detto assurda in tutto l'esplay già c'era una parte che ho detto un casino di volte assurdo basta dire assurdo dai questo è un mondo di quelli veramente di una difficoltà incredibile forza forza muoviti mano del cazzo che ti sto aspettando eh no yeah senza vedere un cazzo che ho rischiato di cadere però così così yeah yeah ho preso no 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 grazie alla letterale ai codini di italianico anche possiamo volare in una maniera incredibile in una maniera incredibile in una maniera incredibile ho preso tutto si vuole che non c'è nient'altro paaa 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 l'unica cosa che mancano in questo mondo sono i zombie no che vi dico scusate c'è uuuuh nel senso ci sono i fantasmi abbiamo visto qua ci sono anche i scheletri ci sono 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 fantasmi schiette diciamo tipistelli e si cosa chissi ma io non lo so che idiota questo questo cacchio possiamo uscire ma che non mi ha niente adesso no 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 eh scusate no scusate no ma sì che dovevo tornare indietro invece ho detto un'altra cosa fu ecco devo tornare indietro per questo ecco adesso sì questo non tornare indietro era una cosa di poca no è comunque importante se questo è un let's play che voglio fare al cento per cento vuol dire che devo prendere tutto al cento per cento sapete cosa vuol dire al cento per cento vuol dire tutto e quindi non sarebbe al cento per cento se a parte che questo si finisce al cento uno per cento cos'è sta cagato del cento uno che non esiste se mai si esiste il massimo è il cento per cento non so cos'è quel uno in più però vabbè è tipo un bonus che hanno messo non lo so cos'è e comunque andiamo qua dai sono già venti minuti cazzo scusate ah con c'è anche con bellissimo sono venuti qua non c'è un altro in maniera vabbè andiamo avanti oh, eccolo bastardo oh, rischi di pericare c'è anche il gioco hai visto che se il gioco di merda sarà quello oh, questo è facile benissimo allora dai ci si sono date a mangiare tu chi chi basta 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 quando è che finisce questo minigioco? che cazzo ok ok basta ce l'ho fatta ma era una wow che minigioco oh tardi come quella che ha più malare vedate ha fatto un bel po' eh eh beh si andranno a fare le donne qua wow che rischio da sotto cacenchi visto che c'è un po' di anali di cacenchi come possiamo vedere già uscendo ne prendiamo una tu schifoso muore ecco sto nuovo po 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 questo questa zona qua non fa tanto paura c'è paura che cazzo scusatemi ma devo dire non fa tanto raggio è diverso da una canzone di quell'altra non c'è nessun verso di mostro non è spaventoso non è molto spaventoso un pochino per il bambino piccolo questo per il bambino piccolo questo mondo è molto ma molto pauroso pensate che io questo gioco quando ero piccolo giocavo a 5 o 6 anni 5-6 fa partecipare 9 volete qualche cosa un potenziale di più l'opgredito e per gli strumenti scambia cosa si chiede l'altro l'argomento ah yey un nuovo potenzione come 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 mamma mia u u ok 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 ma ok 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 c'è una zona e dai dai oh schizzi no dov'è? ecco andiamo con centi di nuovo perchè dobbiamo fare ecco va 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 quanta roba speriamo così vogliamo e quante volte avrò contato questa canzone? basta eh dove puoi cantare? no andiamo con l'idico mi sono già venuta con l'idico no 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 capriccianti semmo no no ok cosa succede no 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 ma che cazzo si gira no 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 e ora adesso non no no non adesso c'è più bisogno l'ho chiamato mai spesa l'arrivo 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 se questo è un po' più lungo perché un legito quindi quindi tanto se dura mezz'ora cosa non è un problema per voi spero perché per fare un po' più in fretta se no troppe parti ok facciamo così ok 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 perchè non esco apprendi no ok 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 prendi la moneta e vai ok ma fa ancora ce n'è un'altra di là ok ho preso lo scherzo perché pensavo di cadere nella sala noia scusate vai vai ce l'ho fatta prima senza cadere nella sala noia oh questo è facile però viste che il tuo eh non si sa mai l'ultimo mondo i due ultimi giochi sono difficili ed per av i per 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 Sì, è fatta. Ok. Oh, dove va? Dov'è? Cos'è fluttato in aria? È tornato. Non lo so che cosa si è successo. Vai. Dai, tutto un colpo. Fila. Dai, che ce la fai. Senza cadere nella sala moglie. Dai, che ce la fai. Vai. Bravo. Per un periodo, ragazzo. Forza. Guarda, tappa da un chi. Questa qua bisogna semplicemente fare la testa di donkey. Questa, per esempio, se c'è la giusta. Questo non si è giusto adesso. No, è vogliato. No. No, è un'altra. No. 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 la banalata l'ho presa subito ok vabbè ragazzi dire che cosa posso dire adesso che usciamo da questa zona non so se si può dire perchè non so più dove andare pensavo anche posso dirlo ok ragazzi allora io vi saluto qua e ci vediamo nella prossima parte del let's play del 64 grazie a tutti per avermi seguito ci vediamo nella prossima parte ciao ciao